buonasera carissimi fidanzati eccoci al nostro appuntamento quindicinale con questa catechesi che voglio offrirvi sul rito del matrimonio andiamo sempre più verso la conclusione dei nostri incontri questo argomento dovrete riprenderlo anche coppia per coppia con il prete che presiderà il vostro matrimonio perché attraverso i vari momenti della celebrazione comprendiate cosa andate a celebrare a vivere e a confermare mentre lo fate il rito del matrimonio che ho in mano introduce l'argomento con degli aspetti fondamentali che abbiamo già trattato trattando la sacramentalità del matrimonio i suoi fondamenti biblici e spirituali e teologici dottrinali che in questo momento vado oltre perché voglio entrare in merito ai gesti e riti del sacramento stesso come ogni sacramento anche quello del matrimonio è composto da gesti e parole da una materia e una forma nel materia del matrimonio siete voi stessi i ministri del matrimonio ve lo date reciprocamente e il celebrante non è colui che vi sposa ma è colui che presiede alla celebrazione del matrimonio come un testimone qualificato insieme ai testimoni vostri amici e alla comunità che vi circonda quindi soggetti principali del matrimonio siete voi la celebrazione del matrimonio può essere fatta dentro la messa o anche fuori della messa normalmente vedo che la maggior parte di voi ancora sceglie di celebrare il matrimonio durante la messa perché vi sentite pienamente coinvolti nella vita cristiana sia per il battesimo che la cresima che è la vita che state conducendo perciò non per rendere esternamente più bello e significativo il rito del matrimonio ma perché ne siete pienamente convinti come abbiamo visto nella volta precedente e lo stretto legame che c'è tra eucarestia e matrimonio allora stabilita nel giorno stabilito dopo avere fatto una preparazione prossima sul rito avere scelto anche le letture che a voi sembrano più significative perché se almeno non sia durante una messa festiva dove c'è presente la comunità se la celebrazione è stata programmata specificatamente per voi la liturgia della parola può essere appropriata secondo anche le vostre sensibilità io dico ai gli sposi conoscete le sacre scritture conoscete un po la bibbia il vangelo andate se ho con l'aiuto del piccolo sussidio che vi è stato messo in mano a fare una scelta delle tre letture che sono significative una dall'antico testamento una dal nuovo è un brano di vangelo potreste anche spaziare oltre questi testi in altri brani della sacra scrittura che voi nella vostra vita di innamorati avete sentito particolarmente destinati a voi stessi la celebrazione inizia con un momento sulla soglia del della chiesa dove c'è anche un'accoglienza da parte della comunità di voi che entrate ma questo rito di accoglienza si esplicita in modo particolare all'inizio con il rinnovo delle promesse battesimali siete due cristiani battezzati che venite a celebrare il vostro matrimonio davanti a cristo e alla comunità da qui il momento iniziale dove si fa memoria del santo battesimo troverete sul sussidio di preparazione tanti oppure perché la preghiera con la quale si fanno questi gesti può essere arricchita da una formula un'altra da una preghiera o da un'altra preghiera io scorro quelle più ordinarie fratelli e sorelle ci siamo riuniti con gioia nella casa del signore nel giorno in cui voi due intendete formare la vostra famiglia è un'ora particolare di grazia siamo vicino a voi con l'affetto con l'amicizia la preghiera fraterna vedete il coinvolgimento della comunità ascoltiamo attentamente insieme con voi la parola di dio che ci coinvolge in comunione con tutta la chiesa sopplichiamo dio padre per cristo signore nostro perché benedica voi qui presenti che state per celebrare il vostro matrimonio e prima di procedere ecco il senso del rinnovo delle promesse battesimali perché siete entrati in chiesa la prima volta con il santo battesimo ora ci rientrate come prossimi sposi e quindi come due fratelli e sorella spiritualmente uniti dalla figliolanza comune con dio padre e quindi ricordiamo padre nel battesimo di tuo figlio al fiume giordano è rivelato al mondo l'amore esponsale per il tuo popolo noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie quindi qui c'è il legame sacramentale a cristo che facendosi uomo si è sposato con questa nostra umanità cristo gesù dal tuo costato aperto sulla croce ha generato la chiesa tua diletta sposa qui c'è il mistero della croce di cristo della pasqua di cristo a cui tutti i sacramenti sono legati da cui tutti i sacramenti scaturiscono da quel costato è scaturita la sorgente di vita di cristo morendo ha dato se stesso alla sua chiesa all'umanità quindi si è offerto tutto a noi e lo spirito santo che potenza del padre del figlio oggi fa risplendere in voi la veste noziale della chiesa matrimonio non è per niente vostro e basta è di tutta la chiesa e di tutta la comunità qui si conclude con una orazione a dio e un rendimento di grazie per quello che siete poi si ascolteranno le letture che avete scelto e dopo l'omelia che è destinata a voi insieme alla comunità ecco si va nel cuore del rito del matrimonio composto di tre parti c'è un'esortazione cina destinata a voi il consenso sui tre cardini costitutivi del matrimonio e poi lo scambio del consenso e la benedizione degli anelli e degli anelli anche qui il rito propone tutta una serie di oppure forme più ascoltate dove siete invitati solo a dire a voce alta il vostro consenso la vostra formula altre addirittura più dialoganti a me piacciono queste forme dovete approfondirle la più tradizionale è quella dove il celebrante dice i vostri nomi siete venuti insieme nella casa del padre perché la vostra decisione di unire in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della chiesa davanti alla comunità voi siete già consacrati mediante il battesimo ora cristo vi benedisce vi rafforza con il sacramento nuziale perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla chiesa le vostre intenzioni e qui ci sono tre domande che sono quelle che avrete verbalizzato nel dialogo con il prete che celebra e fa i fogli sotto giuramento cioè la libertà con cui siete venuti a sposarvi la valore dell'amore dell'indossibilità del matrimonio sacramento e poi l'apertura alla vita siete venuti nella casa del signore davanti al ministro della chiesa davanti alla comunità perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello spirito santo sorgente d'amore fedele inesauribile ora cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui egli ha amato la sua chiesa fino a dare se stesso per lei vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni vedete nelle formule viene sempre coinvolta la chiesa e il mistero di amore di dio padre figlio e spirito santo perché è un sacramento quindi sacramenti si celebrano nella comunità e si celebrano immersi nel mistero d'amore di dio padre figlio e spirito santo siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione in piena libertà consapevole del significato della vostra decisione siete disposti seguendo la via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'altro per tutta la vita siete disposti ad accogliere con amore figli che dio vorrà donarvi ed educarli secondo la legge di cristo e della sua chiesa ecco a queste domande la vostra risposta comunitaria sia sì c'è un'altra formula dove invece siete voi che narrate il vostro sì compiuto il cammino del finanziamento illuminati dallo spirito santo accompagnati dalla comunità cristiana siamo venuti in piena libertà nella casa del padre guardatelo questo formula se ve la sentite di recitarla insieme è anche molto molto bella e poi ecco quello che siete chiamati a dirvi tenendovi reciprocamente per mano è quella formula più diffusa io accolgo te come mia sposa come mio sposo dire a lei con la grazia di cristo prometto di esserti fedele qui quel comunque la grazia ricordate di ciò che ci ha detto il vescovo quel giorno che eravamo in arcivescovato a incontrarci con lui il 15 16 di febbraio prometto di esserti fedele sempre nella gioia nel dolore nella salute nella malattia di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita detto questo reciprocamente il sacerdote raccoglie la vostro consenso la porta verso l'alto lo porta a dio il signore onipotente misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla chiesa e vi ricolmi della sua benedizione l'uomo non osi separare ciò che il dio unisce avrete fatto arrivare davanti a voi gli anelli e li benediciamo con una formula signore benedica questi anelli che vi donate segno di amore di fedeltà siano per voi ricordo vivo e lieto di quest'ora di grazia poi lui prima prende l'anello di lei tenendo le mano prima pronuncia la formula riceve il sigillo questo anello segno del mio amore della mia fedeltà nel nome del padre del figlio e lo spirito santo e lentamente lo mette nell'anulare e altrettanto fa lei nell'anulare della mano sinistra di lui qui termina il rito che è celebrato nel centro dell'eocarestia ma tutta l'eocarestia è celebrazione del matrimonio per cui prosegue con la preghiera dei fedeli e ci rimane un'altra preghiera da fare che può essere messa qui al termine del rito dello scambio degli anelli che è una particolare preghiera di benedizione e di consagrazione degli sposi o addirittura messa dopo la preghiera del padre nostro c'è anche da ricordare che nella preghiera dei fedeli dove i fedeli quindi vostri amici pregano per voi per la vostra scelta per il vostro futuro per ogni famiglia che è presente per cui c'è anche una piccola litania dei santi nelle grandi celebrazioni sacramentali del battesimo dell'ordinazione sacerdotale in questo caso anche del matrimonio la nuova riforma del rito ha inserito una litania di sala perché vogliamo che tutto il paradiso partecipi alla gioia del vostro scelta del vostro amore li invochiamo da maria santissima a san giuseppe agli angeli custodi ai santi dei primi secoli del cristianesimo e anche a una schiera di santi e sante che hanno avuto a che fare con il matrimonio e addirittura coppie di sposi proclamati santi in questo ultimo ventesimo ventunesimo secolo da papa giovanni paolo secondo in particolare dagli ultimi papi come dicevo ci rimane anche un'altra preghiera solenne di consacrazione che può essere messa al termine del rito o dopo la preghiera del padre nostro personalmente dico sempre piace per metterla dopo il padre nostro perché questa preghiera consacratoria degli sposi fa da unità tutta la celebrazione eucaristica l'abbiamo iniziata la celebrazione con la memoria del battesimo la abbracciamo con questa preghiera consacratoria prima di accostarsi al sacramento dell'eucarestia e troverete ben quattro formule che con le quali si può scegliere questa preghiera di consacrazione per gli sposi prendo in considerazione la più breve però al di là di della brevità o della lunghezza che sono tutte veramente belle e significative si ricorda in queste preghiere tutti la storia della salvezza le grandi famiglie dell'antico testamento si prega per la sposa per lo sposo per questo momento e si affidano a dio padre santo concede a questi tuoi figli uniti davanti a te come sposi che comunicano alla tua mensa vedere l'approssimarsi del ricevere l'eucarestia di partecipare insieme alla gioia del banchetto del cielo possano questi tuoi figli vedere attraverso i figli che genereranno fino alla terza e la quarta generazione vi sposate abbastanza adulti ma l'augurio è di essere arrivare anche a godere non solo dei vostri figli ma anche dei figli dei vostri figli quindi di essere nonni e bisnonni carissimi penso di fare anche un'altra catechesi nell'approssimarsi della pasqua dei giorni di pasqua per sentirci uniti in questo tempo così provato com'è quello che stiamo vivendo che ci vede distanziati fisicamente ma vogliamo tenerci uniti e moralmente e spiritualmente e anche direi amichevolmente sentiamoci se è possibile buona serata a tutti e buona riflessione su questo incontro che vi ho proposto stasera sul rito del matrimonio grazie